Oggi il Festival del Viaggiatore è qui a San Zenone degli Ezzelini per raccontarvi la storia della grande famiglia degli Ezzelini. Grazie per la visione! Il più conosciuto della famiglia degli Ezzelini è sicuramente Ezzelino III, conosciuto dai più come Ezzelino il Tiranno. Si dice fosse un personaggio terribile, un valoroso guerriero, un valoroso condottiero, ma anche molto feroce con i suoi nemici. Infatti fu denominato da Rolandino Pattavini, che fu il primo cronista che scrisse la vita di questo Ezzelino, fu nominato come figlio del demonio. Le origini di questa famiglia sono germaniche. Loro arrivano in Italia nel 1036. Il primo, Ezzelino, si chiamava Ecelo di Arpone. Arrivano in Italia a seguito dell'imperatore Corrado II, detto il Salico. Ezzelino all'età, pensate, di 64 anni, vuole andare alla conquista di Milano. Parte con il suo esercito e, arrivato al fiume Adda, viene purtroppo sconfitto. Lì è stato preso, è stato imprigionato nel castello di Soncino e lì è morto. Alberico da Romano era il fratello minore di Ezzelino e lui stazionava a Treviso, la città di Treviso, era sua, di Alberico. Lui si dedicava molto alla musica, alle arti, a tutto quello che non faceva l'altro fratello. Ovviamente, diciamo che lui conduceva una vita molto più tranquilla rispetto al fratello Ezzelino. Ma cosa succede a quel punto? Morto il fratello Ezzelino III, lui si sente un po' minacciato non solo dai signori della città di Treviso, cui lui aveva posto il suo dominio, ma anche dalle città nemiche. Quindi Vicenza, quindi Bassano, quindi Padova, assolutamente, perché Padova ha sempre odiato la dominazione ezzeliniana sul suo territorio, e anche la chiesa, perché vi ricordo che Ezzelino III è stato scomunicato ben due volte dalla chiesa. Alberico a questo punto, sentendosi minacciato, cosa fa? Prende la sua famiglia, si rifugia nel castello di San Zenone. Fra tutti i castelli che avevano di loro proprietà, questo di San Zenone era il castello fortificato. Quindi lui scappa di notte, si dice, arriva a San Zenone e si barrica dentro il suo castello. Nella primavera del 1260 arriva in questo luogo un grosso esercito formato da Veneziani, Vicentini, Trevisiani, Padovani e quant'altro. Arrivano qua e assediano il castello, senza però riuscire ad entrarvi. Succede che dopo quattro mesi di assedio la gente di dentro era stanca. Le persone fuori erano stanche perché una freccia a me, una freccia a te, non riuscivano ad entrare. Quindi succede un fatto molto strano, molto grave, che poi all'epoca succedeva spesso, il tradimento. Tradimento effettuato da chi? Dalla persona che aveva fatto fortificare molti anni prima questo luogo. Quindi conosceva tutte le vie di accesso e tutte le vie di fuga del castello. Mesa da Porcilia consegna le chiavi, diciamo, del castello ai nemici. Infatti apre le porte ai nemici, i nemici entrano e Alberico, vistosi così preso, si rifugia nel Mastio, che era l'ultimo valuardo di questo castello. Si rifugia con tutta la sua famiglia. Lui in quel momento aveva la moglie, si chiamava Margherita, e aveva con sé sette figli, due femmine e cinque maschi, e si sono rifugiati dentro questo Mastio. Dopodiché però, dopo due giorni di fame e di sete, perché dentro il Mastio non avevano di che vivere, dopo due giorni diceva, va bene, volete me? Mi arrendo. Lui si consegna ai nemici, sperando di aver salva almeno la vita dei figli. Non fu così, perché ad uno ad uno i figli maschi furono presi e fatti a pezzi davanti agli occhi del padre, che era legato e gli avevano perfino messo un palo in bocca perché non potesse gridare. Le figlie femmine hanno avuto una sorte anche peggiore, perché, voi pensate, sono state mandate in mezzo a quell'esercito di gente, figuratevi, bramosa, e alla fine furono messe a rogo. Quindi lui fu legato alla coda di un cavallo, e questo cavallo è stato fatto scendere per tutta la via che portava il castello, quindi si è sfracellato il corpo. Si dice però che la testa fosse rimasta integra, fosse stata raccolta e portata su un carro in piazza a Treviso, esposta nella piazza che attualmente è Piazza dei Signori. Una sola persona si è salvato da questo eccidio, che fu la sorella di questo ezzelino, la sorella più piccola, che si chiamava Kunizza. Cara Kunizza, in verità c'è stato un tempo in cui l'imperatore ha tenuto il mio potere. E anche Dante nella sua Divina Commedia parla di Ezzelino e lo mette ovviamente nel settimo gerone dell'Inferno tra i Violenti. Ma poi, visto che Dante era ospite nel suo esilio di Can Grande della Scala a Verona e Can Grande era l'erede di Ezzelino, ha detto un po' ma adesso come mi salvo che ho messo questo ezzelino in inferno? Allora fa parlare, mette Kunizza, la sorella più piccola di Ezzelino, l'unica sopravvissuta, la mette nel nonno cerchio del paradiso. E le fa dire alcune cose. Dice che no, Ezzelino, disceso dalla stirpe nobile degli ezzelini, quindi è nato da madre come è nata lei, ed era una fiammella che portava la pace in tutto il territorio. E certamente avrei reso grande la mia a negarla al morto cortese, a chi cortesemente mi lo chiedeva? A partire dagli anni 90, le varie amministrazioni comunali che si sono susseguite alla guida del comune di San Zenone degli Ezzelini si sono prodigate per riqualificare il sito del Colle Castellaro, un colle molto importante dal punto di vista del valore paesaggistico e anche storico. Il colle, infatti, presenta diversi riferimenti storici, in particolare l'Antica Pieve, la prima chiesa attorno al quale sorse si costruì il comune di San Zenone degli Ezzelini. Sul sito troviamo anche la torre cosiddetta degli Ezzelini, che in realtà con la dinastia degli Ezzelini ha a che fare poco. È chiamata così in quanto era la torre campanaria dell'Antica Pieve. Il riferimento agli Ezzelini è perché probabilmente per la sua costruzione furono utilizzate anche le pietre che a suo tempo erano state impiegate per la costruzione del castello degli Ezzelini, di cui ora non rimane quasi più nulla. Se però saliamo su al santuario della Madonna del Monte, possiamo ammirare alla base del campanile le pietre del mastio del castello degli Ezzelini. La torre attualmente è visitabile fino alla sommità, da cui si può ammirare uno splendido panorama. E lungo la scala di salita ci sono diversi pannelli illustrativi che spiegano le caratteristiche del territorio e la storia appunto sempre della famiglia degli Ezzelini. Scendendo dalla torre calpestiamo il terreno che era dell'antico cimitero della Pieve, dove troviamo sepolti 89 vittime della Prima Guerra Mondiale e tra le sepolture illustri troviamo anche la tomba del pittore Noé Bordignon. Egli nacque a Castelfranco Veneto nel 1841 e morì qui a San Zenone nel 1920, in quanto gli ultimi anni della sua vita decise di trascorrerli proprio qui a dipingere gli splendidi panorami che trovava attorno a sé. Torniamo al nostro Museo Multimediale dell'Antica Pieve, sorto appunto su questo splendido compendio per decisioni appunto dell'amministrazione comunale che ha voluto appunto narrare la storia del territorio attraverso l'Istituto del Museo che coniuga questo sito storico molto importante con allestimenti multimediali, di tecnologie avanzate e moderne che propongono una fruizione accattivante, coinvolgente e intuitiva dei contenuti storici. Questo quadro rappresenta l'Eccidio di Alberico da Romano e della sua famiglia, venuta proprio in questo luogo e qui finisce la dinastia della famiglia degli Ezzelini da Romano. L'associazione di cui facciamo parte è l'Accademia Sodalitas Eccelinorum, quindi l'Accademia di Sodalizio degli Ezzelini e la nostra attività consiste nel rievocare e ricostruire fatti realmente accaduti in luoghi realmente esistiti. La nostra associazione studia testi per la ricostruzione degli abiti, armi e oggetti riguardanti appunto il periodo medievale, nello specifico nel periodo ezzeliniano. Ogni fine agosto facciamo la rievocazione dell'Eccidio di Alberico da Romano nel luogo in cui è avvenuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.